Mi dica cos'è successo dopo. Ascolti, io non lo so, tutto confuso. Non prendevi medicine? Perché? Stiamo solo cercando la verità. Vi ho detto che l'hanno presa. Sidney Barrett, la ragazza scomparsa? Non era scomparsa, aveva preso il mio posto e io il suo. E come? Crede di essere malato di me, ma forse è il più potente mutante che abbiamo mai incontrato. Mi guardi, io so cosa sono. E cosa sei? Sous-titrage ST' 501